Buongiorno a tutti cari lettrici e cari lettori, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Alessia e qui su Alibrary parliamo di libri. Oggi torniamo a parlare di premio strega. Ho già pubblicato due video a tema premio strega quest'anno qui sul canale. Ve li lascio linkati qui sopra nelle schede e anche qui sotto nell'infobox caso mai vogliate andare a recuperarli. Nel video di oggi vi parlerò dei due candidati in Audi, quindi niente di vero di Veronica Raimo e spatriati di Mario Desiati. Ma prima di entrare nel vivo delle due recensioni direi che è doveroso fare qualche considerazione sulla settina dello strega. Perché ieri è appunto stata resa nota la rosa dei finalisti e quest'anno i finalisti non saranno cinque, quindi non si tratta di una cinquina, bensì di una settina. I finalisti sono sette. Innanzitutto andiamo a vedere chi sono questi sette finalisti. Ve li elenco in base al numero di voti ricevuti, quindi dal più votato al meno votato. Il romanzo che ha ricevuto più voti, 244, è Spatriati di Mario Desiati. È un romanzo che entreremo nel merito tra pochissimo, non mi ha fatto impazzire, però comunque ci sta che sia arrivato tra i finalisti. Poi vedremo bene perché. Al secondo posto, con 178 voti, Quel maledetto Vronsky di Claudio Piersanti. Ora, io ho letto questo romanzo e ve ne ho parlato appunto in uno di quei due video di cui vi parlavo prima pubblicati sul canale. E se già l'avete visto, sapete che questo romanzo non mi ha per nulla entusiasmato. L'ho trovato un romanzo piatto, che non aggiunge niente di nuovo, con due personaggi molli, dalla scrittura senza infamia, senza lode. E già in quel video appunto mi chiedevo come fosse possibile, come fosse stato possibile candidare un romanzo del genere al premio strega. E il fatto che sia addirittura arrivato tra i finalisti è alquanto sconcertante. Ora, io non sono una critica letteraria, non ne ho le competenze, non è il mio mestiere, però a mio avviso ci vuole del coraggio a far arrivare in settina il romanzo di Piersanti. Al terzo posto, Randaggi di Marco Aberighi. Non l'ho ancora letto, ne parlano tutti molto bene, quindi sicuramente lo leggerò e ve ne parlerò qui sul canale. Al quarto posto, Veronica Raimo con Niente di Vero. Sono molto contenta che sia arrivata tra i finalisti perché lo vedremo tra pochissimo, questo romanzo mi è davvero piaciuto. E al quinto posto, a pari merito, Alessandra Carati con E poi saremo salvi e Fabio Bacà con Nova. Quindi già qui abbiamo sei candidati perché gli ultimi due hanno ricevuto lo stesso numero di voti e quindi sono stati inseriti nella rosa dei finalisti a pari merito. Ho letto Alessandra Carati, quindi ho letto E poi saremo salvi, un romanzo che a mio avviso si fa apprezzare per le tematiche forti che affronta, ma che non si distingue per una prosa particolarmente letteraria. Sapevo che molto probabilmente comunque sarebbe arrivato in finale, mentre non ho ancora recuperato Nova di Fabio Bacà, ma lo farò prestissimo. Come mai quindi sette candidati? Sette candidati perché uno dei finalisti deve essere necessariamente un libro pubblicato da una casa editrice indipendente di medie e piccole dimensioni e quindi è stato ripescato l'ina sull'argine di Veronica Galletta. Allora, io pensavo che Adelphi contasse come casa editrice indipendente, quindi si dava un po' per scontato che Nova di Fabio Bacà sarebbe arrivato in finale e che quindi questo romanzo potesse rappresentare l'editoria indipendente. E invece a quanto pare non basta che i libri siano pubblicati da case editrici indipendenti, ma è necessario che siano editori indipendenti medio-piccoli. Ora, a mio avviso non è così che si promuove la piccola e media editoria indipendente, nel senso che, premesso, non ho letto il libro di Veronica Galletta, lo leggerò e ve ne parlerò, quindi potrebbe essere il libro più bello dell'universo, però a mio avviso non è questo il modo con cui si promuove l'editoria indipendente, nel senso che questo libro è stato messo lì giusto perché ci doveva essere, a prescindere da quello che è il suo valore a quella che è la qualità del libro stesso. Cioè l'impressione è un po' questa, ripeto, potrebbe essere il libro migliore, però questo ripescaggio in extremis, giusto perché ci deve essere un libro pubblicato da una casa indipendente piccola, mi fa un po' storcere il naso, a mio avviso non è questo il modo con cui si promuove l'editoria indipendente. Poi il fatto che siano stati candidati al premio decine e decine di romanzi, ancora prima che venissero selezionati i 12 semifinalisti, e che si arrivi in finale con 7 candidati è forse un po' ridicolo, cioè se i finalisti devono essere 5, devono essere 5. Insomma ogni tanto sono 6, ogni tanto sono 7, insomma una circostanza che a quanto pare si sta verificando molto spesso ultimamente e certo questo non conferisce al premio un alone di serietà, anzi secondo me è il contrario. A questo punto non so che cosa ci dobbiamo aspettare, magari 2-3 vincitori a pari merito, chi lo sa che cosa succederà io non mi pronuncio. Adesso però veniamo alla recensione dei due candidati e i naudi. Partiamo con Spatriati di Mario Desiati, possiamo considerare questo romanzo un romanzo di formazione perché i protagonisti sono Claudia e Francesco, la storia comincia quando i due sono ragazzini, hanno 15-16 anni, frequentano il liceo e si conclude quando i due hanno raggiunto la maturità e hanno circa 40 anni e si segue appunto il loro percorso di crescita, la loro evoluzione. I due fin da giovani sono privi di punti fermi, privi di punti di riferimento, il punto fermo per eccellenza quando si è bambini, quando si è adolescenti dovrebbe essere la famiglia, ma entrambi sono cresciuti in una famiglia infelice in quanto sia la mamma che il papà di Francesco, sia la mamma che il papà di Gaia non si amano, si sono sposati ed hanno avuto un figlio, una figlia, perché trascinati dalle circostanze per inerzia diciamo e non si separano per quieto vivere, per salvare le apparenze, ma appunto non si amano e quasi immediatamente si viene a scoprire che la madre di Francesco ha una relazione con il papà di Claudia. I due ragazzi quindi sono accumunati da questa situazione familiare, da questa condizione comune e siccome appunto la madre di Francesco e il papà di Claudia sono legati, hanno una relazione, i due ragazzi si avvicinano, si conoscono e stringono un legame fortissimo, tanto che Claudia diventa l'ancora di salvezza di Francesco e Francesco diventa l'ancora di salvezza di Claudia. I due però sono molto diversi perché Claudia ha un carattere molto forte, molto volitivo, è una ragazza molto determinata e soprattutto anticonformista e il suo sogno è quello di lasciare appena possibile il suo paese d'origine, i due sono nati e cresciuti in Puglia a Martina Franca e cercare fortuna, cercare un nuovo inizio altrove. E in effetti così farà, infatti Claudia lascerà prestissimo la giovanissima Martina Franca, viaggerà, si trasferirà prima per un breve periodo a Londra e poi definitivamente a Berlino. Mentre Francesco ha un carattere molto più fragile, è un ragazzo accondiscendente che si fa andare bene tutto insomma e non ha questo desiderio di fuggire dalla sua terra d'origine, sebbene le dinamiche che caratterizzano il paese in cui vive spesso gli vadano strette e lo facciano soffrire. I due restano sempre in contatto e il loro legame, la loro amicizia è un vero e proprio punto fermo, l'unico punto fermo nella vita di entrambi. Ciò nonostante però il loro rapporto è piuttosto complicato, piuttosto ambiguo, perché Francesco è da sempre innamorato di Claudia. Ancora prima di conoscerla di persona, Francesco era attratto da Claudia. Mentre Claudia non ricambia pieno i suoi sentimenti, lui è la sua anima gemella, ma Claudia non vuole avere con lui un rapporto di coppia, diciamo nel senso romantico tradizionale del Telwine. Quindi il loro legame è a metà strada, diciamo, tra il rapporto di coppia e l'amicizia. Ma come vi dicevo è un legame piuttosto ambiguo, piuttosto sfumato. E poi sicuramente tra i due è lei che domina all'interno dell'apporto. Lei, come vi dicevo, ha un carattere molto forte, lui invece è un carattere piuttosto indolente, accondiscendente. Quindi è lui che accetta le decisioni di lei e si piega agli umori e ai desideri di lei. Spatriati è un romanzo che si muove tra due poli opposti. Da un lato abbiamo la periferia, la Puglia, e dall'altro invece abbiamo la grande capitale europea. E devo dire che l'autore demolisce, diciamo, l'ambiente della periferia, della campagna pugliese. Perché il paese d'origine dei due protagonisti è visto come il trionfo del perbenismo, dell'ipocrisia, del bigottismo, del conformismo. Mentre Berlino, al contrario, è la città della trasgressione, della libertà, dell'anticonformismo. E incarna perfettamente il desiderio di fuga, il desiderio di libertà che nutre in particolare Claudia. Spatriati sicuramente è un romanzo che si apprezza per la scrittura. Mi è piaciuta davvero tanto la prosa di Desiati, che è molto densa, molto lirica, ricca di similitudini, di metafore. Quindi ho apprezzato davvero tanto il modo in cui Desiati scrive e vorrei leggere altro di quest'autore. Proprio perché ho apprezzato davvero tanto questo aspetto. Va detto però che Spatriati è un romanzo che mi ha lasciata abbastanza tiepida e che per certi aspetti non mi ha convinta del tutto. Innanzitutto non ho empatizzato per nulla con nessuno dei due personaggi. In particolare la voce narrante è quella di Francesco. Quindi la storia ci viene raccontata da Francesco in prima persona e quindi dal suo punto di vista. E questo povero Francesco più volte si dichiara nei confronti di Claudia, più volte le dice che insomma lei per lui è la donna della sua vita, che la ama, che è la sua anima gemella e lei lo rifiuta sempre. Lei anzi sembra divertirsi ad elencargli tutte le sue conquiste, tutte le sue trasgressioni, soprattutto dal momento in cui lei si trasferisce a Berlino. E mai che lui abbia un minimo di orgoglio, un minimo di amor proprio, mai che la mandi a quel paese una volta, mai che si arrabbi. È sempre e completamente succube di Claudia e quindi non ho apprezzato la costruzione di questo personaggio che è così molle, così privo di spina dorsale. Si riprende giusto un attimo sul finale, nella seconda parte del romaggio in particolare sul finale, ma secondo me non è sufficiente. E anche il personaggio di Claudia mi ha fatto un po' storcere il naso, o meglio forse lei è più credibile, nel senso che quando una persona vuole lasciarsi alle spalle la propria famiglia, il proprio paese d'origine, e vuole proprio recidere ogni legame con le proprie origini, ci sta che faccia delle scelte trasgressive, che ostenti il proprio anticonformismo e la propria trasgressione, però ad un certo punto insomma si matura. E invece lei rimane un'eterna ventenne, un'eterna diciottenne. E anche Francesco, insomma, come vi dicevo, non è che mostri di avere una chissà quale evoluzione durante il corso della storia, quindi è come se i due rimanessero eterni ragazzini senza mai maturare, senza mai crescere, e quindi li ho trovati un po' esagerati, ho trovato un po' esagerata la costruzione di questi due personaggi. Si parla poi in questo romanzo anche di tematiche importanti come l'omosessualità, la bisessualità, l'identità di genere, però queste tematiche sono sempre associate ad una sessualità molto sregolata, come se l'unico modo con cui si possono appunto recidere i legami che ci legano al nostro paese d'origine, l'unico modo in cui si può affermare la propria identità, la propria libertà, sia vivere questa sessualità completamente sregolata. E ripeto, anche da questo punto di vista i due personaggi non maturano nel corso della storia, rimangono due eterni ventenni. Devo dire la verità, anche la focalizzazione, quindi il punto di vista da cui è narrata la storia, secondo me scricchiola un po', perché come vi dicevo il romanzo è narrato dal punto di vista di Francesco. E quando si racconta una storia in prima persona è chiaro che il punto di vista, la prospettiva risulta parziale, ma allo stesso tempo, nonostante il punto di vista sia quello di Francesco, Francesco ci racconta alcuni aspetti, alcuni episodi, alcune dinamiche della vita di Francesca anche molto intime che in teoria lui non dovrebbe conoscere, anche perché Francesco non fa che ripetere durante il corso della storia che Claudia insomma gli racconta un po' quello che vuole, dà sempre la sua versione dei fatti, non è pienamente sincera con lui e quindi come è possibile che Francesco conosca così a fondo alcune dinamiche, alcuni episodi della vita di Francesca, quindi o la focalizzazione è interna e quindi il punto di vista è parziale, quello di Francesco, oppure sarebbe stato più coerente, più logico alternare i due punti di vista o narrare la vicenda diciamo dall'esterno. Quindi secondo me anche la focalizzazione scricchiola un po', è un po' troppo elastica, un po' troppo fluida e mi ha un po' disturbato anche questa cosa. Quindi non sto dicendo che Spatriati di Mario Desiati è un pessimo romanzo, affronta delle tematiche interessanti con una scrittura che ho davvero apprezzato, ma secondo me ci sono delle forti criticità e io non gli assegnerei il premio, anche se molto probabilmente sarà così. Passiamo ora a Niente di Vero di Veronica Raimo, romanzo di cui si è parlato tanto e bene, che non vedevo l'ora di leggere e che devo dire si è rivelato all'altezza delle aspettative. Niente di Vero è un mix tra un memoir e un romanzo di formazione, nel senso che l'autrice ci racconta molto semplicemente la sua vita. Non si può parlare però di autobiografia perché l'autrice raccoglie alcuni ricordi, alcune scene di vita vissuta, disponendole tra l'altro nemmeno in ordine rigorosamente cronologico, quasi come si trattasse di un diario o comunque di un lungo flusso di coscienza. Niente di Vero, in particolare si focalizza sulla famiglia dell'autrice e ci descrive le dinamiche familiari che hanno caratterizzato appunto la sua infanzia, la sua adolescenza e che volente o nolente l'hanno resa, l'hanno trasformata nella donna che è ora. Il lettore quindi fa subito la conoscenza della madre di Veronica, una donna iperansiosa, iperapprensiva, invadente, che ama, questo è in dubbio, i suoi figli, ma che preferisce, che predilige senza dubbio il fratello maggiore di Veronica. Il fratello maggiore di Veronica era praticamente un bambino prodigio, un bambino intelligentissimo, il classico perfettino che arriva sempre primo, mentre Veronica è l'eterna seconda. Quindi anche qui nonostante Veronica comunque ami suo fratello, voglia bene suo fratello, abbia un bel rapporto con il fratello, comunque cova nei suoi confronti un po' di invidia. E poi vi è la figura paterna, il padre viene descritto come un uomo burbero, facile all'ira, ipocondriaco, fissato con la pulizia. Insomma, Veronica Raimo ci descrive una famiglia disfunzionale, ma questa famiglia disfunzionale non lo è in maniera eccezionale, si tratta di una famiglia disfunzionale come tante, anzi come tutte le famiglie, tutte le famiglie hanno le loro nevrosi, i loro litigi, i loro attriti, i loro segreti diciamo. L'autrice quindi ci racconta gli episodi più bizzarri, più strani, più divertenti che hanno caratterizzato soprattutto la sua infanzia, la sua adolescenza e è un libro che fa davvero sorridere. Innanzitutto perché ciascuno potrà riconoscersi, almeno in parte, in qualcuno degli episodi raccontati da Veronica Raimo, ma ciò che rende questo romanzo davvero piacevole è innanzitutto il tono con cui l'autrice racconta appunto questi episodi di vita vissuta. Il tono è divertente, divertito, ironico e con quel pizzico di cinismo diciamo che rende il romanzo molto fresco e molto frizzante. Nel corso della storia si affrontano poi varie tematiche, al di là di quella dei rapporti familiari, si affronta il tema dell'amicizia, dell'amore, della perdita, della maternità anche. Quindi il fatto che il romanzo sia divertente e scansonato non significa che non possa suscitare nel lettore delle riflessioni profonde. Come mai questo romanzo si intitola Niente di Vero? Vero potrebbe essere diminutivo del nome dell'autrice Veronica, ma niente di vero allude al fatto che la vita della protagonista è stata segnata, caratterizzata fin dall'infanzia dalla menzogna, dall'impostura, così la chiama l'autrice. Veronica infatti si rende conto fin da bambina che gli adulti tendono a mentire agli altri, a se stessi e lei stessa impara fin da giovanissima a mentire sia agli altri che a se stessa per costruire un'immagine di sé o una versione dei fatti più accettabile, migliore. Quindi i suoi ricordi sono costantemente rimaneggiati, costantemente limati e alla fine finiamo per credere più alla versione dei fatti che ci siamo costruiti che alla versione, tra virgolette, originale. Quindi c'è una bellissima riflessione verso la fine del romanzo in cui l'autrice dice che tutti sostengono che i ricordi siano il nostro bene più prezioso, ma in realtà i nostri ricordi sono frutto della nostra fantasia, ce li siamo costruiti noi, ce li siamo rimaneggiati noi. E questo vale anche per la scrittura e ovviamente l'autrice sta alludendo alla scrittura in generale ma anche alla scrittura di questo romanzo. Ecco perché il titolo Niente di Vero. In effetti ci sono anche delle riflessioni molto carine sulla scrittura, su come l'autrice è diventata scrittrice, sul perché è diventata scrittrice. Niente di Vero l'ho sia letto ma anche ascoltato, lo trovate disponibile in formato audiolibro su Audible ed eletto da Cristina Pellegrino. A mio avviso è anche molto divertente ascoltarlo, questo libro, proprio per il tono scansonato, divertito, ironico che lo caratterizza. L'audiolettura risulta davvero efficace, sicuramente Cristina Pellegrino ha fatto un ottimo lavoro. Devo dire che di tutti i romanzi letti questo è quello che ad oggi mi ha convinto di più. Molto probabilmente non vincerà il premio ma io vi consiglio caldamente di leggerlo, tra l'altro è un libro molto breve che si legge in poche ore e anche ideale da portare in vacanza. Bene ragazzi, i prossimi libri che leggerò saranno sicuramente i tre finalisti che ancora mi mancano, quindi Randagi, Nina sull'Argine e Nuova. E ve ne parlerò presto nel prossimo video streghesco. Il video di oggi invece finisce qui. Mi raccomando, ditemi quali sono le vostre impressioni a proposito della settina dello strega e a proposito dei due romanzi di cui vi ho parlato oggi. Io vi mando un bacione, un abbraccio e vi do appuntamento prestissimo. Al prossimo video, ciao!